Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi finalmente torniamo dopo un po' che i video del Feminist Friday mancavano, anzi vi prometto che ne ho scritti veramente tanti, le ho scritti così arrabbiate che se no mi buttano fuori da YouTube dopo quelli non lo so cosa potrò mai farlo, comunque! Oggi ho preparato un video che davvero mi richiedete spessissimo, una cosa che spesso mi viene chiesta nei commenti è c'è qualcosa che consiglieresti di leggere, saggi eccetera, per approfondire determinati argomenti e determinate tematiche o per avvicinarsi a questioni legate al femminismo e ovviamente il mio primo elenco erano 18 titoli che in un video non ci stanno, poi l'ho ridotto a 5, poi ho visto quanto ho scritto per i primi 3, quindi facciamo che oggi vi parlo di 3 titoli che vi consiglio e poi faremo delle parti 2, 3, 4 e 25 arriveremo perché insomma... Però ci tenevo a parlarvi di almeno 3 titoli che secondo me sono dei buoni punti di partenza per determinate tematiche quelli che ho scelto oggi sono 3 titoli molto diversi tra loro e che parlano di aspetti molto differenti, di temi legati al femminismo ma che secondo me possono risultare interessanti per tanti motivi, definitivo, completo ci sono quelli che io considero le bibbie, cioè per me sono le bibbie nel senso che io li considero estremamente importanti estremamente necessari da leggere per diverse questioni, però è ovvio che nessun saggio sarà mai definitivo e dopo capirete perché. Il primo titolo che vi consiglio è Si bella e sta zitta di Michela Marzano ci tenevo ad includerlo perché è un libro che secondo me è un'ottima introduzione a determinate tematiche è un libro molto veloce, molto breve, quindi si legge in maniera molto sciolta, non è qualcosa di trascendentale anche per chi non è abituato a leggere saggi o comunque titoli che hanno più quella struttura rispetto a qualcosa di narrativo e secondo me è soprattutto perfetto per un pubblico italiano perché infatti l'analisi di Michela Marzano tocca soprattutto il nostro paese e quindi c'è quella sorta di vicinanza che secondo me aiuta tantissimo il lettore infatti secondo me non ne percepirete la profondità ma ne percepirete soprattutto la vicinanza perché parlando della situazione italiana è un libro che vi sta davvero molto vicino è un libro che parla della vostra storia, della mia storia, della storia di lei e della storia di lei ancora probabilmente anche della storia di lui perché chiaramente ci sono tantissime cose che influiscono sulla nostra vita quello che troviamo dentro a si bella e sta zitta non è qualcosa di molto approfondito Michela Marzano tocca tantissime tematiche perché ripercorriamo veramente tanti tanti punti chiave molto diversi tra loro però li tocchiamo appena quindi non aspettatevi qualcosa che vi dia tutte le risposte e una visione a 360 gradi però la forza introduttiva di questo volume sta proprio qui ovvero che noi ci troviamo di fronte a determinate tematiche anche numerose che affrontiamo e man mano passiamo veramente facendo un giro non tanto approfondito attorno a ogni tematica ma proprio attorno a in quanti aspetti la discriminazione, il sessismo, il maschilismo, il patriarcato e tante altre cose colpiscono la vita di una donna e il titolo di questo libro oltre a si bella e sta zitta spiega molto bene qual è il punto chiave di questo volumetto ovvero perché l'Italia di oggi offende le donne e ripercorriamo velocemente il tema della rappresentazione femminile sotto diverse forme e non solo di rappresentazione femminile si parlerà si parla di famiglia, si parla di discriminazione anche discriminazione sul lavoro, si parla di religione, di pornografia, di media, di sessualità dall'assenza del femminile nella nostra lingua alla transessualità dal declino del patriarcato anche una riflessione sulle donne musulmane insomma gli argomenti sono tantissimi parte da un presupposto ovvero che per tantissimi giovani soprattutto il corpo è il punto di partenza dal quale noi costruiamo la nostra identità o comunque un nucleo molto importante per la costruzione della propria identità ma Michele Marzano che è una filosofa ci spiega come questo percorso per costruire la nostra identità sia fin dalla nostra infanzia viziato da un sacco di paletti da un sacco di cause esterne questo ripeto è un saggio che non approfondisce perché ha molto la forma del jacuzzi cioè questa cosa è problematica e ci spiega in che termini influisce ok? senza però dopo andare molto in profondità però ripeto trovo interessante invece proprio l'introduzione a questi argomenti perché secondo la Marzano la donna cioè secondo la Marzano non è la sua opinione però un po' la visione che la società restituisce della figura femminile la donna è un oggetto fondamentalmente senza l'uomo non è nulla è solo un involucro, una forma e che è talmente compressa nella nostra società è schiacciata da quello che avviene nella nostra società che non può progredire e realizzarsi del tutto una cosa interessante che secondo me giustamente spinge anche ed è una delle motivazioni principali che spingono alla scrittura di questo libro è la seguente questo è solo un punto di partenza ma che secondo me risulta un punto centrale molto forte all'interno di questo breve saggio infatti noi ci immergiamo in situazioni soprattutto molto quotidiane quello che vediamo è una riflessione anche sulla mercificazione del corpo femminile sulle violenze sull'illusione delle pari opportunità l'essere madri ma anche sulla scelta di non esserlo sulla grave disparità sul posto di lavoro e per farlo vengono sempre presi in considerazione chi ha creato questa situazione e chi tuttora perpetra questa mentalità e non si tratta solo degli uomini ma soprattutto lei analizza anche come i mezzi di comunicazione i media sono strumenti che invece rafforzano questo tipo di mentalità perché in fondo vogliono una donna che deve essere bella quindi che sia bella ma che soprattutto stia zitta non esprima opinioni perché fondamentalmente non ci interessano le sue opinioni quindi rimarca come la società ci vuole seducenti quindi appetibili sessualmente però dall'altro senza opinioni insomma la nostra unica aspirazione dovrebbe essere la bellezza quindi non il contenuto non quello che diciamo ho trovato molto interessanti anche i confronti con la Francia che appaiono spesso e di come separi in maniera netta la Francia ovviamente la sfera pubblica da quella privata e come per la loro mentalità questo sia necessario mentre noi stiamo qua ancora a combattere per far riemergere i crocifissi nei luoghi pubblici mancando di rispetto a tutte le persone che non sono cattoliche per qualsiasi motivo che non per forza corrisponde ad essere di un'altra religione dicendo che questo deve diventare un simbolo identitario cosa che in Francia non succede perché la sfera privata si deve distaccare da quella pubblica che è laica scusatemi su questi argomenti mi infervoro particolarmente diciamo che il limite di questo volumetto che è una forma molto didascalica molto breve e molto snella però affronta tanti argomenti interessanti ed è un'ottima introduzione a tantissime tematiche aiuta a prendere coscienza e a muovere i primi passi all'interno proprio di questi argomenti quindi io lo consiglio soprattutto per chi si vuole avvicinare a determinate tematiche e che non le ha mai lette prima oppure che proprio vuole un'infarinatura generale propedeutica poi ad approfondirla in seguito anche in base ai vostri interessi prima di iniziare volevo dirvi che io penso che non esista un saggio femminista e visto che poco fa vi ho citato il tema della bellezza poteva mancare sì che vi faccio vedere ve lo faccio vedere da qua perché qua non ho la sovracopertina da mai ovvero The Beauty Myth di Naomi Wolf ovvero il mito della bellezza e questa è la mia edizione che ha un po' di tempo non mi fate finta di non aver visto che c'è il coso della biblioteca e però praticamente tengo questo che è più leggerino questa è la versione diciamo ridotta non ci sono le cose secondo me più importanti ovvero i dati a supporto quindi questa è solo un'illustrazione molto generale dei temi principali però questo costerà tipo 2 o 3 euro su Amazon quindi se non avete voglia di leggere tutto è una buona introduzione ma per me questa è considerabile una delle bibbie quindi vi consiglio vivamente di leggere l'opera completa che è estremamente interessante l'analisi di Naomi Wolf si incentra The Beauty Myth è un'indagine che incentra le sue analisi e soprattutto la tesi di Naomi Wolf sulla correlazione tra emancipazione e liberazione femminile e bellezza femminile secondo la Wolf ovviamente ed è un tema molto politico quello che lei fa emergere esiste una controcultura del femminismo quindi qualcuno che si oppone al femminismo ovviamente non solo al femminismo anche a tante altre cose che sfruttando il tema della bellezza ideale che ovviamente varia da paese a paese non è uguale in tutti però insomma la metodologia è lo stesso che non fa altro che sottomettere e tenere le donne al proprio posto vi faccio subito un esempio interessante anche perché è quello con cui io vengo apostrofata ad ogni Feminist Friday quante volte avete sentito parlare delle femministe come brutte zitelle con i peli che non si sposeranno mai cioè un'idea stereotipata di femminista molto brutta solo perché è incapace di risultare appetibile quindi incapace di risultare desiderabile per gli uomini questa mentalità che considera chiunque combatta per i diritti automaticamente brutta perché è più facile sminuire l'aspetto fisico che le idee che vengono portate in campo non è una cosa che è nata negli ultimi anni ma nasce ai tempi delle suffragette quando le suffragette chiedevano il voto le descrivevano in questo modo quindi invece che attaccarle per quello che chiedevano cioè perché questi difensori dei loro privilegi sapevano di essere nel torto le descrivevano come brutte che non si sarebbero mai potute sposare poi le attiviste degli anni 60 e 70 quelli della seconda ondata cioè le attiviste che combattevano per il diritto alla salute all'aborto al divorzio all'autodeterminazione alla parità salariale venivano descritte proprio così perché ogni volta che le donne hanno provato ad ottenere dei diritti a combattere facendo sentire la propria voce questo e altri strumenti sono stati messi in campo per opprimere per screditare e sminuire le loro idee le loro battaglie per l'ottenimento dei diritti e diciamo che questo dell'ottenimento della bellezza mitizzata quindi di questa cosa che è inarrivabile perché è impossibile raggiungere determinati standard è difficilissimo è impossibile attenersene per sempre diciamo che è una forma di controllo quindi una volta il controllo avveniva soprattutto su come una donna si deve comportare soprattutto nell'ottocento ma tuttora ci sono dei rettaggi cioè molto molto evidenti però insomma una volta era tutto su come la donna si deve comportare ma ora c'è questo strumento molto più fine molto più nascosto ed è molto più infimo perché si infiltra in una serie di mistificazioni che riguardano l'aspetto fisico e che nuovamente sottendono il controllo ovvero è un qualcosa che praticamente nasce con noi cioè veniamo da sempre cresciute nel culto della bellezza esteriore nel dover apparire in un certo modo nel dover essere quello ma questa non è altro che una forma di controllo e questo controllo ce l'ha fatta perché ha minato la nostra autostima la nostra insicurezza viene soprattutto proiettata sul sentirci inadeguate sul sentirci mai abbastanza magre grasse tonde toniche belle non belle cioè noi siamo continuamente costrette a convogliare energie che le nostre insicurezze dal punto di vista fisico sono energie che noi disperdiamo che perdiamo invece che magari incanalarle e convogliarle per qualcosa di positivo e cercare ovviamente di raggiungere obiettivi positivi non per forza globali anche personali e invece che cercare delle soluzioni o perseguire i nostri obiettivi in maniera limpida siamo più concentrate sul provare vergogna a sentirci inadeguate a sentirci continuamente infelici perché il nostro fisico non corrisponde a degli standard imposti da chissà quale canone stereotipo perché il nostro aspetto fisico ci rende molto più insicure che la nostra sostanza che le nostre qualità positive che i nostri punti a favore allora questo ve lo leggo perché ce l'ho in inglese quindi ve lo traduco la partecipazione alla vita moderna l'educazione e l'impegno lavorativo erano considerate attività che avrebbero portato le donne vittoriane alla malattia i vittoriani quindi protestarono di fronte alla possibilità di una maggiore istruzione femminile immaginando che questo avrebbe leso i loro organi riproduttivi ed era ritenuto certo che l'educazione per le donne le avrebbe rese sterili o ancora peggio sessualmente poco attraenti qua vi leggo degli spezzoni un po' in ordine però per farvi capire che lo stereotipo cambia magari nella sua forma ma che si ripresenta quando una donna mostra interessi scientifici ci deve essere qualcosa che non va nella sua sessualità i documenti degli esperti di marketing descrivono come manipolare le casalinghe per farle diventare insicure e consumatrici di prodotti per l'igiene domestica qua si riferisce agli anni 50 bisogna ottenere un senso di colpa un trasferimento di senso di colpe lucrare sullo sporco sul nascosto sfruttare il valore della terapeutico della cottura in forno rendere i lavori in casa un argomento di discussione un argomento di cultura e abilità piuttosto che è un lavoro noioso e ripetitivo da fare svogliati magari identifica il tuo prodotto con un valore spirituale gli oggetti con un valore psicologico aggiunto acquistano grande attrattiva quindi è anche tramite queste cose ci hanno detto che cosa dovevamo amare di che cosa dovevamo parlare e che quindi la nostra diciamo sicurezza veniva acquistata da questi grandi lavori domestici negli anni 50 e spiega anche come dopo gli anni 50 quindi dopo il boom economico dagli anni 60 in poi la moda sia stato uno strumento che ha solo rafforzato questo stereotipo e che è stato uno strumento ottimo perché è riuscito a estremizzare questo mito della bellezza perché l'attenzione si è spostata dagli abiti cioè i protagonisti in teoria della moda che dovrebbero essere loro al fisico al corpo sono aumentati gli articoli sulle diete dimagranti in maniera esponenziale creando un senso di colpa in chi non seguiva queste diete o chi non ne aveva mai sentito parlare che prima non esisteva o prima c'era solo nei casi più gravi e per questi principi e soprattutto l'idea di dover appartenere dover assomigliare a determinati modelli le donne hanno affamato tirato cerettato spelato abbronzato sbiancato tagliato eccetera eccetera i loro corpi e poi siamo passati alla cura della pelle in una maniera molto più ossessiva rispetto in precedenza perché chi non si prende cura del proprio corpo a sufficienza viene messo in dubbio non solo per le sue capacità pratiche ma proprio per la sua intelligenza per la sua forza di volontà in quanto queste donne non si rendono conto dell'importanza della cura della pelle e questa cosa si è evoluta nel tempo addirittura dagli anni 80 in poi noi siamo arrivate a una comunicazione che ci dice che noi possiamo che noi valiamo che noi possiamo fare tutte queste cose e che soprattutto noi possiamo sempre trovare il tempo e le energie da dedicare a queste attività sottintendendo che tante cose rimangono superfle e colpevolizzando chi questo tempo non lo trova o non lo vuole trovare in pratica in parole povere se non siete perfette è perché siete pigre perché non avete abbastanza forza di volontà c'è qualcosa che non va con la vostra forza di volontà oppure siete deboli o poco intelligenti altrimenti potreste davvero ottenere tutti i risultati nei quali sperate e se quello deve essere il tuo obiettivo non ci sono dei veri e propri limiti e per questo si ricorre con banalità e superficialità alla chirurgia plastica per questo ci si tira si comprano creme da migliaia e migliaia di euro ci si sottopone a diete massacranti si va in palestra e ci si sfianca il fisico in maniera del tutto non sana perché se hai le rughe ci sono le cremine se hai il seno piccolo c'è il chirurgo che te lo può ingrandire perché questi sono problemi non avere il seno è diventato un problema avere le rughe è diventato un problema insomma ci siamo infognati in sta cultura che ci dice che se le donne non sono belle non possono essere felici e che la nostra felicità dipende dalla nostra bellezza perché noi dobbiamo essere soprattutto belle secondo la wolf quindi la bellezza è un mito che oggettivizza le donne che le rende dei prodotti un materiale da plasmare secondo le proprie esigenze prima eravamo misurabili solo in termini di capacità riproduttiva cioè quanti figli una donna poteva avere ora siamo passati ad altri termini di giudizio quindi è ora quanta capacità una donna di tenersi in forma ma quanta capacità una donna di tornare in forma dopo una gravidanza in quanto tempo eccetera eccetera quante poche rughe ha in volto una donna e quanto non invecchia una donna cioè cose allucinanti sono cose che non sono prevedibili in tanti casi e non sono esigenze necessarie e le donne sono sempre state oppresse attraverso i secoli e le culture giudicandole soprattutto per il loro aspetto esteriore ma non solo anche nel loro modo di fare però diciamo che ora si è trasformato soprattutto in un grande business e la wolf indaga questo come un aspetto estremamente politico del mito della bellezza perché viene sostenuto dall'informazione dai media e dalla loro manipolazione psicologica perché quando noi vediamo solo certi modelli di donna ci sentiamo inadeguate se non corrispondiamo a certi modelli di donna se abbiamo la pelle scura e continuiamo a vedere donne bianche ci sentiamo inadeguate perché noi non siamo bianche se continuiamo a vedere donne toniche e noi l'unico sport che facciamo è passare dal letto a divano ci sentiremo sempre inadeguate e pensate invece alla contraddizione totale della politica questo ve lo cito se la donna che si dedica alla politica è stigmatizzata perché è troppo bella è una minaccia, una rivale o semplicemente è poco seria quindi non è affidabile d'altro lato però se viene derisa perché è troppo brutta è rischioso presentarla all'elezione è rischioso candidarla perché si corre il rischio troppo alto di identificare la persona che vota con la persona che sta votando cioè follia e quindi insomma questo è un po' un percorso molto generico trattando alcuni dei temi che vengono affrontati nel mito della bellezza e vi dirò una cosa molto interessante e molto polemica questo è un percorso molto veloce sul mito della bellezza io ho un testo che consiglio tantissimo è dell'inizio degli anni 90 ma secondo me è estremamente attuale per tanti versi non concordo su tutto ma lo trovo un saggio molto interessante è stato attaccato da destra e manca però secondo me è una lettura che è necessaria fare per avere almeno un occhio più aperto e più attento su alcune tematiche la cosa polemica che volevo dirvi è la seguente in Italia il mito della bellezza non è disponibile da nessuna parte non c'è su Amazon non c'è su Libraccio non c'è sugli altri rivenditori online perché è fuori catalogo infatti io vi cito una riflessione di Silvia Belcastro che condivido tantissimo che ho trovato su un blog online l'Italia non è un luogo in cui il mito della bellezza deve essere letto che in Italia è molto più conveniente vendere alle donne dei cosmetici che farli leggere una cosa di questo tipo perché a livello industriale e politico è più interessante continuare a sottoporle a un'oppressione psicologica e dare loro uno strumento necessario per ribellarsi e quindi niente io vi lascio con questa cosa che mi lascia sempre nel dubbio perché non è possibile che questo libro non sia disponibile da nessuna parte si possa trovare solo usato quindi ci sbrighiamo invece in inglese comunque vi dico è abbastanza scorrebole è abbastanza accessibile io spero che qualcuno lo ripubblichi in italiano che ne faccio delle nuove edizioni anche perché è un testo secondo me fondamentale l'ultimo saggio del quale vi parlo oggi che non ho in copia cartacea perché è a casa dei miei è Sexual Politics di Kate Millett che tra l'altro è morta l'anno scorso quindi secondo me era anche doveroso parlarne Kate Millett è una delle più grandi esponenti del femminismo degli anni 70 è proprio una figura chiave quindi ha anche un valore storico molto determinante e per quanto Sexual Politics risenta un pochino del tempo e abbia dei limiti dei quali vi parlo dopo è uno di quelle che io considero la Bibbia anche questo testo perché Kate Millett sostiene che in maniera davvero molto intelligente secondo me a mio parere è che l'oppressione delle donne viene soprattutto individuata nelle politiche del sesso della sessualità ma anche del sessismo e del patriarcato ovvero il dominio sessuale dell'uomo sulla donna e ora vi spiego brevemente la sua analisi viene condotta su quattro autori del novecento molto importanti soprattutto fino agli anni 60 e 70 di cui uno praticamente per noi è scomparso però insomma si affronta ad esempio di H. Lawrence si affronta Henry Miller cioè sceglie questi quattro scrittori da studiare come agenti culturali infatti per molti questo saggio risulta anche in qualcosa che ha distrutto dei miti letterari per tanti ma in realtà non è assolutamente quello il succo e non credo che fosse l'intento l'intento è trovare un qualcosa che culturalmente diffonde un certo tipo di contenuto e di messaggio infatti ad esempio la Millett afferma che Lawrence aveva definito l'amore come la dominazione di un'altra persona che invece Miller era la voce del disprezzo e del disgusto verso l'altro sesso e che le sue opere erano costellate da un sessismo molto aggressivo e l'altro autore che indaga invece Miller che io non l'avevo mai letto non l'ho mai sentito l'ho sentito sempre solo all'interno di questo saggio comunque è praticamente tra i quattro il peggiore secondo la Millett perché era visto come un prigioniero del culto della virilità quindi di una mascolinità molto tossica e che descrive la mascolinità come un qualcosa di incerto sempre in cerca di stimoli nuovi di energie nuove ma che allo stesso tempo è minacciato da tutte le parti e poi invece il quarto autore che affronta lo loda perché invece propone dei modelli nettamente più positivi la Millett la Millett fondamentalmente cerca tramite questa sua analisi di mostrare come la relazione tra i sessi fosse caratterizzata da predominio e subordinazione e che fondamentalmente questo fosse un meccanismo che noi abbiamo interiorizzato che quindi fosse una sorta di colonizzazione psicologica lei lo descrive in questo modo è un tipo di oppressione più resistente di qualsiasi genere di segregazione e più rigido della stratificazione di classe e il dominio sessuale diventa uno strumento infestante ma determinante della nostra cultura e impone la sua forma di potere dobbiamo anche un po' contestualizzare quando uscì sexual politics a Harvard c'erano due professoresse di ruolo in tutta l'università la Millett furbescamente cosa fa? propone un testo fortemente di rottura con dei messaggi veramente molto forti un messaggio molto innovativo ma allo stesso tempo molto di denuncia lo fa in una in una struttura molto accademica anzi per la scrittura di sexual politics infatti la Miller sfrutta i modelli accademici dei quali lei fa parte perché era una ricercatrice universitaria inserendo una bibliografia complessissima note molto consistenti e in maniera così minuziosa che difficilmente poteva risultare un volume attaccabile da un punto di vista formale le sue fonti erano spesso l'antropologia e la scienza giuridica dai quali attingeva le sue fonti per denunciare tantissimi aspetti lei era tra l'altro fermamente convinta che l'istituzione del matrimonio fosse addirittura un'unità patriarcale all'interno di un sistema patriarcale la fine dei tabù e delle inibizioni sessuali mettevano soprattutto in crisi il sistema patriarcale che aveva condotto alla coppia e al matrimonio Millet ovviamente sperava nella rivoluzione sessuale che avrebbe messo fine soprattutto ai tabù e alle inibizioni sessuali tradizionali quindi anche alla sessualità che viene vissuta in maniera estremamente diversa in base al genere di appartenenza e ovviamente auspicava alla fine della repressione sessuale dalla repressione di questi tabù che minacciavano diciamo l'unità fondamentale monogama del patriarcato ovvero l'omosessualità l'illegittimità la sessualità adolescenziale pre ed extra coniugale ovviamente stiamo parlando degli anni 70 quindi ci siamo evoluti un pochino non tanto ma un pochino ci siamo evoluti e secondo me questa è un'opera davvero molto piacevole da leggere perché ha una forma molto comprensibile ben documentata e argomentata quindi la Millet io la stimo tantissimo soprattutto perché ha scritto un qualcosa di molto forbo oltre che contenutisticamente validissimo e opinabile lo posso capire però assolutamente molto valido quello che secondo me è un po' la pecca del volume che risente davvero tanto un po' del fattore tempo anche se alcune cose sono applicabili anche ora assolutamente anzi i media penso che siano state ancora più pesanti rispetto alla dominazione della quale parla la Millet ma soprattutto il volume risente di quella che era l'appartenenza fondamentale della Millet ovvero questa corrente femminista new yorkese che negli anni 70 non prendeva come tema di discussione una questione fondamentale ovvero l'intersezionalità cioè la vera disuguaglianza assumeva la forma dell'oppressione di classe ma allo stesso tempo si tendeva a non considerare o oscurare i problemi legati invece alla classe economica di appartenenza e soprattutto alle questioni di razza identità sessuale e orientamento sessuale e non considerando queste cose si faceva quello che viene contestato tutte le femministe diciamo degli anni 70 quindi che consideravano solo un femminismo per bianche quando in realtà ci sono molti strati e diversi discorsi che si possono fare in base all'appartenenza all'origine eccetera comunque insomma secondo me anche questo è un volume estremamente interessante che vi consiglio direi che ho parlato parecchio nonostante siano solo tre libri ma lo sapete che io non ho il dono della sintesi quindi io spero di avervi incuriosita almeno su questi tre spero di parlarvi di altri volumi prossimamente perché li trovo cioè ce ne sono troppi da suggerirvi e troppi da leggere spero che non siano anche consigli scontati ma che siano questioni molto interessanti da affrontare fatemi sapere cosa ne pensate poi come ogni Feminist Friday vi invito a partecipare anche su Instagram ovvero se voi postate una foto usando l'hashtag Feminist Friday con un contenuto che abbia a che fare con femminismo discussioni i vostri personaggi preferiti autrici temi eccetera eccetera usando l'hashtag Feminist Friday mi raccomando io lo riposterò nelle stories in modo così da poterlo condividere insieme a tutti è sempre una bella festa secondo me nel venerdì niente direi che per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto e spero davvero di girare tanti altri Feminist Friday molto interessante nelle prossime settimane quindi niente direi che per oggi è tutto spero di avervi tenuto compagnia come sempre e direi che noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao